Affiancano un'auto a bordo di uno scooter e sparano alla nuca di un ventenne a bruciapelo. Il giovane è stato portato all'ospedale CTO dei Colli Aminei, dove i medici hanno asportato il proiettile dalla nuca e lo hanno dimesso con 15 giorni di prognosi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Arenella, ai quali il ventenne, che ha precedenti di polizia, ha riferito che si trovava a bordo di un'auto con amici della zona di Chiaiano, quando è stato affiancato da due giovani a bordo di uno scooter, i quali hanno esploso un colpo di arma da fuoco all'indirizzo del finestrino, senza alcun apparente motivo. La vittima è un giovane di 20 anni, originario del quartiere Scampia, con precedenti. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto sulla vicenda, indaga la polizia di Stato del commissariato dell'Arenella. Gli aggressori poi sono fuggiti, dileguandosi nel nulla. L'aggressione è avvenuta attorno alle ore 2 di questa notte. Al momento le indagini sono in corso e anche la ricostruzione al vaglio della polizia, che sta acquisendo gli elementi per chiarire cosa sia avvenuto e individuare e identificare i responsabili. Non è escluso che possano essere acquisite le eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di delineare il percorso seguito dagli aggressori e poi la via di fuga.